Benvenuti, di questo! E ogni narcisista trema davanti a te e si arrende. Prima di affrontare il tema, iscriviti al canale, seguimi su Instagram, Massimo Tramasco Ufficiale, seguimi su TikTok e su tutti i miei canali YouTube. E fai una donazione al canale, se ti va ovviamente. Perché? Dando che si riceve, come diceva San Francesco, quindi anche sotto il video puoi cliccare sulla donazione al video. Veniamo al tema, veniamo al tema di questo! E ogni narcisista trema davanti a te e si arrende. Allora, intanto diciamo che narcisisti o narcicoglioni, diciamo così, o persone stronze, non importa, ma poi di fatto c'è qualcosa di narcisistico in ogni persona, fondamentalmente. ma, ripeto, come dicono tutti i video, non è che tu puoi fare una diagnosi o farti fare una diagnosi, tanto non sa lo farò fare mai. Chi si comporta male nei tuoi confronti devi levartelo dai coglioni! E devi interagire nei suoi confronti in modo tale da metterla alle strette, da uscire vincitore o vincitrice. Le persone manipolative, è importante metterle al loro posto. È importante, diciamo, notare, usare delle frasi che fanno capire che non ti fai prendere per il naso, che fanno capire che hai capito. E queste frasi ti aiuteranno a mettere in fuga le persone tossiche, diciamo così, e a prevenire di coinvolgerti con persone potenzialmente narcisistiche, sia uomini che donne, perché poi i narcisisti sono uomini e donne, non è che sono solo uomini. Ma dobbiamo tenere presente che dobbiamo fare attenzione che i narcisisti si mascherano bene. E si mascherano bene, o anche le persone tossiche spesso si mascherano bene, anche i libertini, che spesso sono confusi con i narcisisti, si mascherano bene. Quindi dobbiamo tenere presente che dobbiamo essere assolutamente bravi a individuare ogni forma di trasferimento, di travestimento, non travestimento di un certo tipo, ma ogni forma di maschera, di queste persone che si presentano come brave persone, che si presentano come angeliche, che si presentano come personaggi, diciamo, da favola, da mille e una notte. E diciamo che su questo ci marcia anche molto il fatto che soprattutto molte donne sono, diciamo, sono abbindolate da Walt Disney, perché Walt Disney vissero per sempre felici e contenti. Questa frase ne ha vinculate più di una, perché tutte ha il principe azzurro, il mito, e invece poi magari si trovano un rospo, perché gestire una relazione, con una persona manipolatrice, stronza, narcisista o no, non è molto facile, perché sono persone molto persuasive, hanno una capacità di seduzione molto alta, e all'inizio può essere un qualcosa di eccitante, può essere veramente che ti fanno vivere una favola, perché soprattutto gli istrionici, le persone istrioniche, sono avventurose, affascinanti, ti fanno vivere fuochi d'artificio. Peccato poi che piano piano inizieranno a mostrarsi per quello che sono e inizieranno, come dire, a crearti problemi, intanto perché normalmente ti vogliono controllare, ti vogliono manipolare, pensano di essere superiore a te, e si propongono come persone superiore a te. Ora, una delle frasi che mette K.O. il narcisista è una semplice frase, Impari a dire no! Ogni volta che una persona, qualunque se sia, ti chiede qualcosa che non ti va, o che tu non hai voglia, anche se di no, queste persone hanno un'enorme difficoltà ad accettare il no, ma tu devi dirlo con calma. No, guarda, ho altro da fare. No, guarda, perché loro sono abituati a sentire sì, soprattutto prova a dirgli no quando ti fanno love bombing, perché questo li manderà in tilt, li manda in tilt e li vedrai che si incazzano pure. Questo ti farà anche capire che tipo di persona hai davanti. Un'altra cosa è che più che dire a parole deve dimostrare con i fatti, è non ho paura di te, perché il narcisista utilizza la tua paura, la tua paura di essere abbandonata, la tua paura di essere rifiutata, la tua paura di non sentirte all'altezza, la tua paura di essere giudicata male, la tua paura di essere disistimata, la tua paura di non trovare un'altra persona che ti possa accompagnare nella vita, devi dimostrargli che non hai paura. e per far questo coltiva quelle che sono le tue, le cose che ti piacciono, coltiva le cose che, coltiva le tue passioni, e poi dimostra fermezza. quando ti vuole dire, ti dice, ah ma dove sei, dove eri, cos'eri, ah perché anche le persone possessive gelose fanno parte dei rompicoglioni, tu di questa frase, non hai nessun diritto di controllare le cose che faccio. Punto. Oppure, mi spiace che tu la pensi così, ma io continuo a fare quello che credo. Quando ti fanno gaslighting, che cercano in qualche modo di farti passare per pazze, eccetera, eccetera, dire, no io non ho mai detto questo, non ho detto quell'altro, io ho detto questo, insomma, cercano di screditarti, di renderti, di farti passare come una, insomma, un po' pazza, tu di semplicemente la frase, non posso accettare la tua errata percezione della realtà, non posso accettare la percezione errata che tu hai di me, ma comunque problemi tuoi, non sono problemi miei. E poi volendo, una buona dose di contramanipolazione, ci puoi essere uguale se hai sbagliato, uguale che non ho mica detto quello, tu registra le cose, e poi li devi spiattelli, e da lì non potrà fare altro che assorbire il colpo, e più che altro a te serve, diciamo, più che altro a te serve per te stessa, e per metterla a posto, e per, diciamo, vedere di che persona si tratta, perché potrebbe essere anche una persona che quando viene, trova una persona forte, se poi non è un narcisista, potrebbe anche andare alla persona, però devi dimostrare che hai potere, devi dimostrare che hai forza, devi dimostrare che non ti lasci assolutamente sottomettere, devi dimostrare assolutamente che te ne fotti, che gli dà indifferenza. utilizza spesso anche in sua presenza questi modi di dire, che Voluntas Deu Vox Populi Vox Dei è morto un papa se ne fa un altro, morto un re se ne fa un altro, si capisce che insomma non è l'unico irripetibile sulla faccia della terra, ma è, come tutte le altre persone, intercambiabile. Devi fargli capire che è intercambiabile, che lui è uguale a milioni di altre persone e se non ci sarà lui, ci saranno milioni di altre persone, meglio di lui magari, o di lei, perché adesso mi riferisco agli uomini, però mutatis mutandis vale anche per le donne. Fai questo, fate questo in memoria di me, fai questo, di questo e ogni narcisista trema davanti a te, perché capisce che tipo di persona sei e si arrende e come dire esibirà la bandiera bianca, sventolerà la bandiera bianca, sul ponte sventola la bandiera bianca, la bandiera bianca del narcisista. Fallo e vedrai che le cose andranno bene. Di questo e ogni narcisista trema davanti a te. Mi raccomando, mantieni la tua autostima, mantieni la tua forza interiore e vedrai che le cose andranno per il verso giusto. Seguimi su Instagram, Massimo Terramasco Ufficiale, seguimi su TikTok e ovviamente su tutti i miei canali YouTube. Naturalmente quando ti iscrivi al canale attiva la campanella così riceverai la notifica dei nuovi video e mi raccomando, se ti va ovviamente, fai donazioni al canale!